L'onedì 14 marzo, buongiorno e buongiorno. Ben trovati con Mattino 6, inizia una nuova settimana e inizia per quanto ci riguarda sempre con una rassegna maggiormente tagliata sullo sport in un fine settimana che ha visto il turno di riposo osservato per il campionato di Serie D, mentre per quel che concerne il calcio dei più grandi, il calcio professionistico, solo un sorriso è quello della Virtus Lanciano che continua la sua rimonta salvezza con la vittoria di Salerno, sempre più crisi per il Pescara, battuto in casa dal Novara, in Lega Pro punto interlocutorio per il Teramo, mentre ieri l'Aquila ha perso lo scontro diretto con il Sant'Arcangelo e dunque torna ai margini o quasi all'interno della zona play-out la squadra di Carlo Perrone che ne era uscita la settimana scorsa anche a causa della diminuzione della penalizzazione dopo la sentenza della Corte Federale in merito al processo sportivo d'Irti Soccer. Poi nel basket molto bene Roseto, sconfitta invece in trasferta per la Proger Chieti, vittoria in 5 set molto sofferta, più del previsto della Sia Cortona sul campo del fanalino di coda Alessano nel volley di A2. Ma iniziamo la nostra rassegna stampa come sempre la prima parte con le pagine della cronaca delle testate nazionali e regionali. Iniziamo dal Corriere della Sera che apre così doppio attacco del terrorismo e questo sarà un po' il tema anche per gli altri quotidiani. Costa d'Avorio, fuoco sui turisti in spiaggia, 16 morti, autobomba ad Ancara, 34 vittime, il racconto degli italiani nel resort africano, gli spari, poi il fuggi fuggi, il premier non ci piegheranno. E poi in alto Merkel paga la crisi dei migranti, balzo della destra, SPD al palo, nel Baden-Württemberg gli estremisti di AfD davanti ai socialdemocratici, sorpresa verde. Poi l'editoriale di Antonio Polito, i compiti di Renzi nel PD lacerato, torti e ragioni nello scontro. E poi ancora in basso la nuova scuola dei vecchi supplenti, nonostante le assunzioni i docenti precari sono ancora 105 mila. Le scelte degli istituti. Avanti con la prima pagina della Repubblica, anche in questo caso il tema è quello, un tema diviso in due tra quello che succede in Germania e il terrorismo. Schiaffo a Merkel, la paura profughi fa volare la destra, Germania e i populisti al 15% in tre land, resistono i governi, crollano CDU ed SPD. Poi ancora la fotonotizia al centro Costa d'Avorio, assalto ai turisti, Ankara strage alla fermata del bus, commando dal mare, 16 morti nei resort africani. Poi l'intervista, io la maestra migliore del mondo nella scuola degli ultimi, Aran si è giudicata il Global Teacher Prize, l'insegna a Betlemme. E poi ancora in basso Bersani a Renzi, sei lì grazie a me, Meloni, io al posto di Bertolaso, Roma, caos nel centro-destra, Salvini, sfida Berlusconi. E poi ancora più in basso, prova di potere all'ONU, un gioco da ragazzi, simulazione con 2.500 studenti. Avanti ancora con la prima pagina del giornale, centro-destra, Meloni e Salvini rompono, Berlusconi ha un piano B, Roma, Bertolaso incoronato ai gazebo, fratelli d'Italia e Lega non ci stanno. Elezioni regionali, profughi e colonia, schiaffo alla Merkel e la destra esulta. E poi ancora attentati in Costa d'Avorio e Turchia, all'Akbar, la domenica del terrore, assalto jihadista al resort in Africa, 16 morti ad Ankara, un'autobomba fa strage. E poi ancora di spalla, offende i figli di genitori omo, discrimina i gay e la scuola elimina la festa del papà. E poi no ai murales nei musei, perché difendo blu l'artista di strada che cancella i graffiti, nell'articolo scritto da Vittorio Sgarbi. E poi in basso, nel finale di partita, Verone Udinese, due facce della dignità. Ancora con il fatto quotidiano, ma a che serve votare? Settis, riforme, Costituzione, acqua, i cittadini dicono una cosa, il governo la ribalta. E poi domenica di sangue, terrore ad Ankara, 33 morti, autobomba alla fermata del bus, assalto in Costa d'Avorio, 16 mittime, regionali in Germania, in calo la CDU e l'SPD, vola la destra anti-immigrati, però la Merkel non affonda. Storia di copertina, la Corte di Giustizia europea boccia la proroga fino al 2020 per regolamentare la gestione degli stabilimenti. Ora la liberalizzazione potrebbe mutare le realtà consolidate, il mercato delle spiagge. E poi in basso è la stampa, ma non è bellezza, dagli Zara e Erdogan, attacchi, cesure, chiusure e omicidi. Andiamo a chiudere questa parentesi con la prima pagina del messaggero, anche in questo caso l'apertura dedicata. al terrorismo, a quanto accaduto ieri in Costa d'Avorio e in Turchia. Infatti il titolo d'apertura è questo, terrorismo, il giorno delle stragi. Turchia, autobomba al centro di Ankara, vicino a una fermata del bus, 34 morti e 125 feriti. Comando di Al-Qaeda in Costa d'Avorio, attacca resort di turisti, 5 europei fra le 16 vittime. Sotto la testata, campionato Udinese-Roma 1-2, Champions più vicina, Lazio-Atalanta 2-0. Il voto dei Lander, se nemmeno ai tedeschi piace l'Europa della cancelliera, nell'editoriale di Alessandro Campi. Ed ecco qui la fotonotizia, Germania schiaffo alla Merkel, vola alla destra anti-immigrate, alle urne per tre parlamentari regionali. Roma, Sia, Bertolaso, Dei Gazebo. Meloni, pronta a candidarmi. Salvini, appoglio la leader di Fratelli d'Italia. Berlusconi, partita chiusa. E poi, centrodestra, ma è polemica per gli scarsi controlli sul voto, scontri nel PD, dissidenti, nessuna ipotesi di scissione. E poi, in basso, oggi i PM italiani in Egitto. Il Cairo accusa, giovane egiziano, sparito in Italia come Regenie. Poi il delitto di Roma, Prato era in cura, smise i farmaci pochi giorni prima di uccidere. Ed ora andiamo a vedere le prime pagine del centro, le varie edizioni. Partiamo dall'edizione dell'Aquila. Nei guai, il re delle intrusioni web. L'Aquila, dopo gli allarmi bomba, nuove contestazioni per un giovane già arrestato per atti persecutori, tra le accuse anche quella di aver fatto spese con carte di credito altrui. In aula, il 19 maggio. E poi, vediamo le idee, il fragile sistema dei partiti di Gianfranco Pasquino. E euroscettici avanzano in Germania, di Marco Piantini. Sono, appunto, due editoriali su quanto accaduto ieri in Germania, ma anche a Roma. La fotonotizia per lo sport. L'Aquila crolla a Sant'Arcangelo e rivede l'incubo dei play-out. Vincono i romagnoli 2-0. I richiami di spalla. Tifosi pratolani rompono il naso ad un allenatore. Elezioni, Gero Solimo, candidato a Casini come sindaco. Corte dei Conti, ad Avezzano di Pangrazio censurato per l'iPhone. E poi il buongiorno Abruzzo di Rocco Coletti, papà di Francesco e figlio sotto i riflettori. Con papà Eosebio che sta facendo benissimo al Sassuolo. E con Federico che sta guidando alla rimonta salvezza la Virtus Lanciano. Ma sono di gol e grandi giocate. L'edizione terramana del centro. Giuliesi aggrediti in Piazza Orsini. Teramo presi ai cinghiati da un gruppo di ultra. Uno di loro è stato identificato e denunciato. Ad Atri, l'allenatore del Fontanelle picchiato dai tifosi del Pratola dopo la partita. Ha il naso rotto. La fotonotizia. Roseto sbanca il campo del Matera vincendo di 30 punti. Il miglior marcatore è sempre Allen. Poi di spalla compro azioni Tercas. La banca dovrà risarcirla in base alla sentenza del giudice. Sempre a Teramo. Civitella. Timori e polemiche per i migranti. Ne arriveranno 70. Referendum sulle trivelle. Si aprono i giochi. Schieramenti in campo. Prima pagina dell'edizione di Chieti. Le primarie a D'Amico e Mantini. Centrodestra. Lanciano e votano in 2.215. Fosco sconfitto. Francavilla vince l'avvocato della civica. Record di affluenza a basto. In 5.373 alle urne. Testa a testa tra Desiati e Tagliente. La fotonotizia. Così 24 profughi lavorano per meritarsi l'accoglienza. Roccamontepiano. Primo paese a farlo. I richiami. Ho sfidato e preso a schiaffi il rapinatore. Parla il capo della mobile. Poi a Sempracchietti. Delusi da D'Alfonso. Ciapi. Dramma dei dipendenti. Vivono in auto. Volley e basket. Sieco. Non basta la vittoria. La proger cade. Ad ora la prima pagina del centro per l'edizione di Pescara. Andiamo a vedere nel momento in cui avremo a disposizione la prima pagina. Mare sporco. Arrivano le barriere. Pescara. La regione è pronta a finanziare con 200 mila euro l'intervento ferma veleni nel fiume. La soluzione proposta dai balneatori limiterebbe l'inquinamento e salverebbe la stagione. Poi la fotonotizia al centro. Il calendario adesso è in salita. Oddo, riprenditi il Pescara. Biancazzurri in crisi. Mazzotta. Chiede scusa ai tifosi. I richiami. Disperazione a penne. Operai a Brioni. Vive in auto. Aiutatemi. Macchina incendiata a San Donato. Paura in via Basento. Alle primarie del centro-destra di Francavilla vince Mantini. Possiamo entrare all'interno delle pagine del centro. Pagina 7. La pagina dell'Abruzzo. Ecco qui. Referendum Trivelle. Si aprono i giochi. Verso il 17 aprile. è iniziata la campagna per il SIA, la quale fa da contrattare la mobilitazione sotterranea dei non voto. Gli schieramenti. Perché siamo a favore? Ragioniamo in prospettiva verso le rinnovabili. E poi perché siamo contro? Non ha alcun senso. Il quadro normativo è già cambiato. E qui abbiamo le foto di alcuni degli interlocutori delle due fazioni. Già costituiti alcuni comitati schierati fra gli altri anche i dieci sindaci del Terramano. E qui ne vediamo alcuni. Michele Pogliandri, Morrodoro, Francesco Comignani, Silvi. E da quest'altra parte Confindustria non ha dato indicazioni ma appare compatta sul non voto. E qui vediamo anche Agostino Ballone, presidente regionale di Confindustria. Anche il presidente della Camera di Commercio di Pescara, Daniele Becci, tra gli altri. Avanti ancora. Startup selezionate in 16 per il fondo americano. Droni, sanità, servizi. Oggi all'Aquila ciascuna società ha 5 minuti di tempo per illustrare il proprio progetto. e aspirare al finanziamento da 200 mila dollari. Pagine di Pescara. Stagione estiva da salvare. Barriere mobili nel fiume per non inquinare il mare. La regione condivide la soluzione proposta dai balneatori per salvare la stagione. Mazzocca, pronti a finanziare l'intervento che costerebbe 200 mila euro. E poi ancora la vecchia scuola Muzi, verso l'abbattimento. In via caduti per lavoro, l'edificio di proprietà De Magnale è ormai fatiscente. Al suo posto potrebbe sorgere un'altra sede per il conservatorio e un'area verde. E poi ancora, ridotto a pezzi, il ponte chiuso e abbandonato. L'attraversamento sul fiume è inagibile d'agosto per problemi di sicurezza. Ma i lavori non sono mai iniziati e intanto è meta di sbandati e tossicodipendenti. Misura anti-smog, niente domeniche ecologiche fino al 3. Operaia della Brioni vive in macchina. Penne lo sfogo della donna dipendente dell'azienda che paventa. 400 esuberi. Lavoro part-time da 20 anni. Se ci mandano in mobilità sarà una tragedia. Sono stato a protestare a Pescara la scorsa settimana e andrò mercoledì a Roma per manifestare ancora. Ho paura di perdere tutto. E poi ancora a Tirreno Adriatico arrivano i ciclisti. Chiusa la galleria a Cepagatti. Oggi ci sarà l'arrivo appunto della Tirreno Adriatica. E poi abbiamo qui gli autografi e i selfie con Valeria Marini, testimonia al Mocambo, alla prima di Saral Food. Tutto questo all'Ibisco di Città Sant'Angelo. Siamo qui alle primarie. Il centrodestra sceglie l'avvocato Mantini. Le primarie di Francaviglia e consigliere comunale raccogliono 564 preferenze contro le 432 dello sfidante Pasqualone e Franco Moroni. Non va a votare. E poi in basso per la cronaca auto incendiata in mezzo alle case, in via Basento, rogo doloso, in pieno pomeriggio residenti scendono in strada. Pagine delle altre province. A Chieti il poliziotto rapinato in casa. Così ho preso a Schiaffoni il bandito. Un quarto d'ora di terrore la colluttazione e la fuga del malvivente. Costantini è un rischio che ho dovuto correre. L'inchiesta del PM Falasca sul colpo nell'abitazione del capo della mobile porterà presto a buoni risultati. Il bottino, tre orologi custoditi nella camera da letto. E poi l'operazione nella notte. Un maxi recupero di droga gettata sotto la scarpata. Sempre a Chieti. In basso i profughi si guadagnano da vivere. A Rocca Montepiano sono 24, lavorano per il comune. Così ripagano l'accoglienza. A Teramo questi episodi di violenza. Cinghiate ai giuliesi. Denunciato un ultra pestaggio in piazza Orsini. Riconosciuto il noto tifoso Teramano. La polizia sta identificando gli altri complici. Indagini in corso. La volante e la Digos esamineranno le immagini delle telecamere per risalire all'identità di tutti gli aggressori. Poi quest'altro grave episodio di violenza. Atri picchiato dall'allenatore del Fontanelle. Domenico Di Pietro aggredito dai tifosi dei Nero Stellati al termine della gara. Ha il naso fratturato. Civitella, timori e polemiche per i migranti. Il sindaco Di Pietro incontra i residenti. Non è certo che arriveranno. L'opposizione attacca. Qui abbiamo ora la pagina aquilana. Studenti nel progetto case. Un secco no da Cialente. Il sindaco boccia la proposta avanzata da D'Alfonso e dalla Pezzopane. L'Unione Europea ha deciso che questi alloggi hanno natura provvisoria. E poi ancora scontro nel PD. Oggi rapino all'Aquila. De Santis degli dv elogia Lolli. In basso, febbre suina killer. Allarme alla Badia. I residenti della frazione sono preoccupati. Si forniscono indicazioni su come evitare il contagio. Tutto questo appunto nella frazione di Sulmona. Ed ora passiamo anche alle pagine del messaggero Abruzzo. Intanto la prima pagina. Pedaggio sull'asse. Torna l'ipotesi. Il raccordo per Scara-Chieti ha costi alti di manutenzione. L'anas a caccia di alternative. Il governatore D'Alfonso si attiva mentre il capogruppo di Forza Italia, Sospiri, lancia l'allarme. Poi ancora. Vasto, Francaville, Lanciano, primaria, centrodestra. Ecco i risultati. Da Rosetto ad Atlanta tra Volo e Canestri. E questa è la storia chiaramente di Gianluca Ginobile, componente del trio notissimo. Il volo sotto la testata Teramo, Little Pub tra due Ultras di Teramo e Giulianova. Calcio di Lega Pro, L'Aquila senza scampo, sfida salvezza al Sant'Arcangelo. Basket e volley di A2, Rosetto facile. Cade la Proger, la Sieco sbanca. Tricase in basso, o meglio in taglio medio, PD in ordine sparso, Rapino. Non siamo un bus elettorale da Pietrucci al tradimento di Gero Solimo che a Sulmona presenta una candidata civica. Il disagio, campo imperatore albergo a secco, hotel senza acqua da tre giorni. All'interno del messaggero Abruzzo, al termine della rassegna del messaggero andremo a effettuare il break meteo con Giovanni De Palma. Asse attrezzato a pagamento, rispunta l'ipotesi pedaggio. Sospiri di Forza Italia lancia l'allarme sulla base di lettere di D'Alfonso a Toto e Anas. A motivare la scelta ci sarebbero i costi di manutenzione troppo elevati. Incidenti anche tragici e autocontromano denunciano gravi carenze di sicurezza denunciate al prefetto dalla polizia stradale. Vertenza dei balneari, assemblea all'Ibisco, padovano della Sib, proroga di 30 anni per le concessioni Tomei di CNA, invoca invece il governo per una legge all'Aquila, come abbiamo visto in prima pagina, al Campo Imperatore, albergo senza acqua, con i pozzi a secco, è stata utilizzata la piscina dell'hotel. Mario Tomasino, uno dei gestori della struttura, non sappiamo cosa possa essere accaduto. E poi morto Don Luca Nardis, una vita a Valle Pretara, i funerali fissati per oggi alle 15.30 nella sua terra nera, e per la sanità e chirurgia senologica oltre 350 interventi. Siamo nella Marsica, verde pubblico, cop locale scelta per la manutenzione ad Avezzano. Il servizio dopo nove anni è stato tolto a una ditta campana. Le prime pagine di Chieti e Teramo, partiamo da Chieti, rivoluzione paratricale, gestione a teatre servizi, e il comune chiede il conto a cinque squadre, è scontro politico, anche la Progerchieti riceverà la diffida per pagare gli arretrati. Vasto, testa a testa, desiati davanti, da Mico a Lanciano, circa 5.400 votanti ai Salesiani, 2.200 nella città frentana. Ortona, salvataggio delle scuole, convocata assemblea a Vasto. Un nuovo ospedale, l'iter va accelerato, il messaggio del consigliere Olivieri di scelta civica ad Alfonso. E nella pagina Teramana, i quattro ospedali ora sono un lusso. I 550 milioni annui non bastano più per garantire i servizi. Al Mazzini, accorpamento di chirurgia con ortopedia, già soppresse spese per i metronotte. Il manager Fagnano, i soldi sono sempre gli stessi e non sappiamo come coprire i costi aumentati. A Giulianova, la Branella, ora se ne va, Unica Beach emigra, scelta la zona nord per la spiaggia dei Cani. Così è fatta male. E poi in basso, rissa tra Ultras in pieno centro, vittima un tifoso di Giulianova colpito a Cinghiate. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa per la cronaca. Prima di passare alla prima pagina della Gazzetta dello Sport, io do il buongiorno a Giovanni De Palme di Abruzzo Meteo. Ciao Giovanni. Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, questo inverno prova a dare un piccolo colpo di coda in questo periodo di metà marzo? Diciamo che sì, la nostra penisola è interessata ancora da delle correnti fredde di provenienza orientale che mantengono attive condizioni di instabilità anche sulla nostra regione e temperature anche lievemente al di sotto delle medie stagionali. Quindi questa è una notizia, anche se dovrebbe essere la normalità, in quanto nei mesi scorsi siamo stati perennemente al di sopra delle medie stagionali. Quindi adesso stiamo attraversando una fase cosiddetta normale, tipica della stagione in corso. Ma diciamo che nelle prossime ore continueremo ad avere degli annuvolamenti, in particolar modo sul versante orientale della nostra regione, con possibili deboli precipitazioni, più probabili sulle zone colinari, alto colinari e montuose, dove assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 1000-1100 metri. Una temporanea attenuazione della nuvolosità è prevista nel corso del pomeriggio sera e nelle prime ore della giornata di domani, soprattutto sulla fascia costiera e sul versante orientale, ma assisteremo a un nuovo peggioramento del tempo, stavolta ad iniziare dalla Marsica e dall'Aquilano nel corso della tarda mattinata e nel pomeriggio con dei rovesci, delle precipitazioni nevose localmente al di sopra dei 900-1000 metri, in estensione poi entrosera verso il settore orientale della nostra regione. Quindi torneranno nubi e torneranno le piogge anche sul versante orientale nel corso della seconda metà della giornata, in particolar modo nella serata. Poi la situazione non migliorerà di molto, Andrea, perché la nostra penisola continuerà ad essere interessata appunto da queste masse d'aria fredda di provvedenza orientale, di conseguenza è lecito attendersi ancora a degli annuvolamenti tra mercoledì e giovedì, localmente associate a delle precipitazioni. Ma le zone più interessate da questi fenomeni saranno ancora una volta il versante orientale, sarà ancora una volta il versante orientale. Quindi non si prevedono sostanziali variazioni anche nel corso dei prossimi giorni, continuerà a manifestarsi l'instabilità con temperature leggermente al di sotto delle medie stagionali. Giovanni, invece per il tuo pescara le medie sono più che mai basse negli ultimi tempi, sei immagino molto deluso. Sì, perché oltre alla sfortuna diciamo che ci sono stati anche episodi sfortunati, ma il problema di questa squadra è soprattutto il reparto difensivo, perché l'abbiamo visto anche nel corso dell'ultima partita. Il Novara è venuto avanti in due occasioni e ha trovato il gol proprio in due occasioni, tra l'altro in due complici a nostra difesa, con degli sbargioni difensivi. Quindi il pescara crea anche molto, crea, crea, però poi subisce il gol, ovviamente non riesce più o se ci riesce poi viene sempre sopraffatto da un errore difensivo. Il problema è la difesa, perché quando secondo me a mio avviso torneranno, spero che torneranno più presto, Campagnaro, Crescensi con la difesa che gioca con Zampano, Zuparic, Crescensi e Campagnaro, io credo che poi il pescara tornerà ad essere quello che abbiamo visto fino a qualche mese fa e credo che possa ancora dire la sua in ambito promozione, ovviamente questa volta bisogna mantenere la posizione, cercare di mantenere la posizione per arrivare ai play-off. Io credo che con quella formazione, con quella difesa, Andrea comunque il pescara tornerà a fare punti. C'è come una maldizione, non riusciamo ad arrivare a 50 punti, questo l'ho notato, speriamo insomma di sfatare questa situazione già nella trasferta insidiosa di Crotone, ma ripeto, se il pescara gioca a calcio non ce n'è per nessuno, io credo questo perché il pescara gioca un bel calcio, adesso è sfortunato, tornerà ad essere quello di prima, ripeto, con i rientri nel reparto difensivo, mi avviso, Andrea. E speriamo che sia così, grazie Giovanni, buon lunedì e buona settimana. Grazie Andrea, una buona settimana anche a te e a tutti i tre spettatori di TV6. E apriamo allora lo sport, la pagina, la parentesi molto ampia dello sport con la gazzetta dello sport, questa prima pagina col titolo d'apertura, la resa di Sinisa con questa squadra, non posso fare di più, giallo sulla frase di Mihailovic, mentre i vecchi accusano i compagni per l'atteggiamento e la Champions se ne va, caso Milan dopo il brutto 0-0 col Chievo. E c'è il commento di Andrea Schianchi, c'erano una volta i senatori. sotto la testata, vediamo qui, Higuain non molla, il Napoli basta un rigore per tornare a meno tre dalla Juve, a Palermo l'Argentino sale a 27 reti e prende CR7 nella scarpa d'oro, i bianconeri all'assalto del Bayern, Evra, ora sappiamo come fargli male. di Spalla, Filotto e Giecola, Roma vola, Udine esplode con Antonovia, ottava vittoria di fila per Spalletti, gol del Bosnia con Magia di Florenzi, insulti e liti, pronti Calori o De Canio. Poi ancora Inter, sabato sfida Capitale, ansia Icardi, Mancini a pari punti con la Viola frenata dal Verona e Deder scalpita. Poi alcuni richiami per gli altri sport, oggi riparte la Tirreno, difesa Vegni, furia Nibali, il giro, voglio garanzie. Moto, i dolori di Petrucci, una placca e 12 viti ma in Qatar, voglio esserci sci, l'italgette scatenata, Paris terzo in Super G e la Gutt è regina di Coppa. e poi pagina 2-3, il Napoli ancora lì, basta il solito Pipita, la Juve resta più tre, Sarri batte Benitez, Palermo Niguain segna sul rigore, gli azzurri salgono a quota 64, un punto in più di tutto lo scorso campionato per Novellino, debutto con Fischi, Gonzalo già da record ma per fare la storia ci vuole lo scudetto. Il Pipita a 27 come con la Real nel 2009-2010, primo nella Scarpa d'Oro con CR7 e l'idolo di una città che sogna il titolo dopo 26 anni. Qui ci sono le dichiarazioni del tecnico Sarri, scossa Sarri, gara dominata ma attenti a non piacersi troppo. Poi ancora in vista della partita di Champions, Bayern ora sappiamo farti male, Evra lancia la sfida, l'andata ha insegnato tanto alla Juve, sanno che devono rispettarci e in basso il sacrificio di Mario e la tristezza di Alvaro cercasi gol per due. Avanti ancora con le pagine sul Milan, che sono anche il tema d'apertura della prima pagina della Gazzetta, il Milan è sparito, il Chievo lo soffoca, c'è aria di Resa e da quest'altra parte Mihailovic Amaro e il giallo della Frazza e l'amarezza di Sinisa, con questa squadra non si può fare di più. Poi ancora la rabbia dei senatori, questo atteggiamento non è degno del Milan, parole soprattutto di Abbiati e Abate. Avanti ancora Gieco rugisce ancora, Roma ottava sinfonia, Cola appeso ad un filo e per la successione in panchina, se dovesse essere così, c'è questo testa a testa tra Calori e De Cagno, Calori peraltro ex difensore dell'Udinese. Grand'angolo e l'Inter sorride, nerazzurri primi insieme al Milan nei gol da corner, comanda D'Ambrosio con due. In basso, Anzi e Icardi, oggi il verdetto. Jovetic anticipa i tempi, poi avanti la prima volta di close, lancia la Lazio di scorta, ma inguaia l'Atalanta. Abbiamo visto in precedenza, ecco qui, la Fiorentina, la Fiorentina stecca e fischi, la Champions si allontana. Andiamo avanti con le pagine sulla Serie B e sulla Lega Pro. Ecco qui, tra il Cagliari e il Primato c'è di mezzo l'ex Bisoli, tutto pronto per superare il Crotone e con una vittoria sul Perugia sarà fatta. Rastelli, le assenze non sono un alibi. E poi a Como si continua a cambiare guida tecnica, forse inutilmente. A Como via Festa con Matteoli, arriva Cuoghi. E poi in basso, Trapani, playoff nel Mirino, Crisi Vicenza, via Marino. E poi per la Lega Pro, in particolare per il Girone B, il Sant'Arcangelo esulta. È uno scatto salvezza, l'Aquila non sa reagire. Finita 2-0 appunto a Sant'Arcangelo, migliore in campo, Margiotta, voto 7, autore anche del primo gol. Nell'Aquila il migliore, secondo le valutazioni della Gazzetta, è stato Triarico, Triarico con 6,5%, con lui anche Scotti, 6,5%, Triarico che ha colpito una traversa. E poi ci sono le parole di Buffon, che con una sua società, è socio di minoranza della Carrarese, che sabato è stato avversario del Teramo, errore vendere il club a un forestiero. Questo perché il Tribunale di Massa Carrara ha dichiarato il fallimento della Carrarese e Buffon con la GVG immobiliare detiene il 30% del club. Ora la società è in esercizio provvisoria, lo sarà almeno fino al prossimo 30 di giugno. Poi ancora le pagine sui motori, in particolare sulla Formula 1, perché siamo alla vigilia della partenza sia della stagione delle quattro ruote che delle due ruote. Hamilton e Mondano, se vince ha ragione lui. La stagione i personaggi, le regole, così li giudica Mario Andretti. La Formula 1 imiti la IndyCar, la gente vuole vedere più incertezza. Meno 6 a Melbourne. E da quest'altra parte, meno 6 al Qatar. I dolori di Petrucci, una placca e 12 viti, ma voglio correre. Ci fermiamo qui, per ora riprenderemo con il Corriere dello Sport, con le testate locali e con alcuni servizi. Di nuovo buongiorno e bentrovati in questa seconda parte di Mattino 6. Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere dello Sport che apre in maniera decisamente diversa rispetto alla Gazzetta, dando spazio al titolo del Paris Saint-Germain. Ibra ha fatto 13, l'incredibile record dello svedese. Campione di Francia col PSG in 15 anni ha conquistato 13 scudetti e due volte è arrivato secondo. Ora vuole tornare in Italia. Chi lo prende? Poi c'è l'opinione di Alessandro Vocalelli, tentazione Zlatan sul mercato. Sotto la testata torniamo al campionato italiano. Napoli, basta Iguain, Roma come un treno, un rigore del Pipita, riporta gli Azzurri a meno 3 dalla Juve. Spalletti, ottava vittoria di fila, Buio Milan, Lazio che close in basso. Formula 1 e MotoGP al Via, una settimana di grandi speciali. Trapani fa il colpo, stasera il Cagliari. E noi andiamo direttamente a pagina 23 del Corriere dello Sport. PSG, il trionfo, Ibra, il bomber che vince sempre in 15 campionati, è arrivato 13 volte primo. Il mio futuro so solo che non è a Parigi. parole ben precise. Gli scenari, il Milan pronto a riabbracciarlo e spunta Mou. Lo special vorrebbe averlo allo United, la moglie di Zlatan, però adora Milano e vuole tornarci. Una festa esagerata, 9-0 a Troyes. E poi in basso, Cale Tottenham, stasera Ragneri. E in Spagna, Casemiro salva il Real, Rossi gol con il Levante. avanti ancora con Formula 1 e MotoGP. Vettel contro la Stella, nel mondiale sfida tutta tedesca con un'origine comune, Schumi. Seb irritante per i ferraristi quando vinceva sul Red Bull, oggi è diventato il faro di Maranello. Rossi contro la Spagna, 9 piloti iberici, ma i nemici, giurati di Valentino, sono due. La rottura tra Vale e Marquez potrebbe stemperarsi con l'arrivo di un terzo incomodo. Vignales, punto di domanda. E poi, ancora, Furianibali, ora forse salta il giro, tappa annullata, ma non nevica, a slongo, meglio puntare al Tour. E poi, ancora, per il basket di Serie A, Perugia, perdono, Pesaro distrugge Sassari, Sardi in confusione, Sheffert e Dei, non perdonano, Mitchell verso il taglio. E con questo titolo sul basket possiamo congedarci dal Corriere dello Sport e riprendiamo la rassegna con le pagine del centro. Lunedì, Sport, Pescara e Lanciano alla rovescia. In meno di due mesi, Oddo dai sogni agli incubi e la Virtus dalla depressione all'entusiasmo. Poi ancora, basket di A2, Roseto, missione compiuta, la Proger, crolla a Treviso, pallavolo di A2, Sieco soffre, vittoria al tiebreak, ma ora i play-off sono un'utopia. Ciclismo, la Tirreno Adriatico in Abruzzo, oggi c'è l'arrivo a Cepagatti. Poi per la Lega Pro, l'Aquila sbanda a Sant'Arcangelo, play-out vicini per il calcio direttantistico, serie di turno di riposo, Giulianova prosegue la lite in società, Chieti cambia modulo, eccellenza, la vastesa rallenta, ma il paterno non ne approfitta. Promozione, passo a cordone, San Gregorio, leader, due gare rinviate. Poi c'è il punto, la domenica, di Rocco Coletti, i padroni del vapore e le parole al vento. Andiamo a vedere ora le pagine sul Pescara. Pescara in crisi, la scossa di Oddo e Caprari, ci siamo e non mogliamo. L'allenatore dopo la sconfitta interna, la squadra unita, ci rialzeremo subito, l'attaccante è sicuro, abbiamo un solo obiettivo in testa e non sbaglieremo più. Intanto le soddisfazioni arrivano dalla primavera, i ragazzi della primavera bianca-azzurra stendono la capolista a Roma, un missile del capitano Ventola tiene acceso il sogno play-off. e poi il balfo del defino di Antonio De Leonardis, un calcio a paure e scetticismo. In basso, Mazzotta chiede scusa ai tifosi dopo il gesto del silenzio verso la tribuna. Mai reagito così, mi dispiace. Le scuse di Mazzotta ieri arrivate via social tramite il suo profilo di Instagram. Vediamo ora anche il messaggero sulla Pescara, il tempo ecco qui di andare sulla pagina. Pescara, adesso non devi mollare, il K.O. con il Novara ha messo a rischio persino i play-off, il Delfino è scivolato al sesto posto, Brescia e Dentella premono, è fondamentale il recupero del miglior Campagnaro, ma come gioco l'undici di Mr. Oddo comunque c'è. Allarme rosso, anche Coda K.O. Diamutene last minute, dunque torna in auge il nome che era stato fatto la scorsa settimana del giocatore che è venuto ad allenarsi a Pescara all'inizio della scorsa settimana. Nulla da eccepire sulla prestazione del giovane Vittorini, ma in certe gare serve esperienza. Battuta la Roma di De Rossi, questo appunto per la primavera, come detto, col partita di Ventola al quindicesimo del primo tempo e sul momento difficile del Pescara ascoltiamo le parole di Alessandro Bruno. Dobbiamo allenarci con più feroce, con più grinta, con più volontà, dobbiamo dare di più perché solo in questo modo riesci a superare questo periodo. Non conosco altre medicine. Se fino adesso abbiamo dato il 100%, adesso dobbiamo dare il 150% anche in allenamento. Non basta il 100%. Si parla tanto, lo dicono anche alcuni tuoi compagni, di mancanza di serenità. Ma perché il Pescara da qualche settimana non sarebbe più sereno? Ma non è assolutamente vero. Non siamo sereni, non siamo preoccupati, però purtroppo, ripeto, in qualche circostanza, pecchiamo di mancanza di attenzione, come ha detto il mister. E' la verità purtroppo. Noi dobbiamo guarire noi questo male e ripeto, l'unica maniera che conosco per risolverlo è solo dare sempre di più in allenamento e poi te lo ritrovi anche il sabato. Questo è un momento difficile, ma dobbiamo essere compatti e ripeto, abbiamo le qualità per tornare alla vittoria in qualsiasi partita. Dobbiamo essere sereni, noi tra di noi siamo tranquilli, però dobbiamo renderci conto che comunque dobbiamo dare qualcosa in più. Ripeto, in allenamento non è che non lo diamo, lo diamo ma evidentemente non basta. Dobbiamo dare di più in tutte le circostanze e cercheremo e in questo modo sicuramente ne usciremo fuori. Nell'orizzonte c'è questa gara di Crotone, domenica all'uscita incontrerete una squadra che reduce dalla sconfitta di Brescia. Una partita che Pescara dovrà però cercare di non sbagliare. Sì, loro saranno sicuramente arrabbiati ma noi dovremmo essere ancora di più, dovremmo andare lì a Crotone a fare una battaglia e dobbiamo prepararci bene per affrontare questa partita perché dobbiamo subito ritornare alla vittoria. Ieri sera c'è stato un intervento social anche di Massimo Oddo che spesso lo fa, sovente poche ore dopo la partita, in questo caso si è preso un po' più di 24 ore, stiamo attraversando un momento difficile ma in questo campionato la squadra ha dimostrato ampiamente di avere qualità, cuore e grande spirito di sacrificio, caratteristiche che non sono mai venute a mancare. Ci aspettano ancora tante partite e continueremo a lottare, a dare tutto quello che abbiamo per raggiungere il nostro obiettivo. il gruppo è molto unito e sono convinto che ci rialzeremo, sperando nel rapporto di tutti i tifosi che per noi sono fondamentali. Avanti, tutti insieme. Questo è l'intervento appunto ieri di Massimo Oddo sul suo profilo Facebook. Riprendiamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con la Virtus Lanciano sul messaggero Lanciano Miracolo a ostacoli. Giovedì si discute il deferimento per i contributi non versati, obiettivo limitare la penalizzazione. Maragliulo, magico, restiamo concentrati sulla salvezza, sapevamo che dovevamo andare oltre i nostri limiti. E poi ancora di Francesco, papà mi consiglia, Federico, il figlio d'arte, sta salvando la società anche come quotazione l'intuizione del DS Leone. Sul centro, chiaramente si parla anche qui di Federico Di Francesco, l'uomo in più del momento, il Lanciano Lariscossa, tesoretto Di Francesco, l'arma in più della Virtus, l'attaccante figlio dell'allenatore del Sassuolo e un trascinatore. Corsa e gol, così il calciatore è migliorato e ora è lui l'uomo mercato. Anche Ferrari sembra risorto dopo mesi difficili, l'arrivo di Maragliulo ha ridato motivazioni. Le parole anche di Luca Di Matteo, un'emozione, sbancare la Rechi. E ora andiamo alla Lega Pro e parliamo dell'Aquila. L'Aquila sciupa tutto nel giro di due minuti, ora è incubo play-out. In casa della diretta concorrente Sant'Arcangelo, gara decisa da Margiotta e un'autorete di Pesoli. Le parole di Perrone, l'allenatore Aquilano, la prestazione c'è stata, il tecnico assorvi i suoi, abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. Poi le pagelle, 6,5 per Scotti, 5 per Pesoli e Cosentini, 5,5 per Piva, insomma la difesa sul banco degli imputati. E poi anche in avanti arrivano voti bassi per il tridente De Sousa-Perna-San Domenico, anche per Ligorio, il subentrato De Francesco-Benzaia. Insomma, in pochi si salvano da questa trasferta, anche se, ripetiamo, l'abbiamo già sottolineato ieri nel corso dell'Abruzzo del pallone, l'Aquila aveva giocato fino al gol del 1-0, una buona partita. E l'Aquila, andiamo qui sul messaggero, va a picco e rivede gli spettri. Rosso-Blu perdono 2-0, lo scontro diretto Salvezza a Sant'Arcangelo e vengono superati in classifica dai Romagnoli. Nonostante i sette punti restituiti, si ritorna in zona play-out. Anche in questo caso le pagelle vengono tra i migliori scotti e triarico. Male la difesa, male anche il reparto avanzato. Mister Perrone, non possiamo farci male da soli. E allora andiamo a vedere proprio il servizio di questa sconfitta dell'Aquila. 2-0 a Sant'Arcangelo. Un minuto di follia costa carissimo all'Aquila, superata per 2-0 nello scontro diretto di Sant'Arcangelo. Una partita che i Rosso-Blu stavano nel complesso, ben giocando e in un certo senso anche controllando, ma quel minuto, poco dopo il quarto d'ora della ripresa, fa pendere decisamente l'ago della bilancia verso i Romagnoli contro una L'Aquila incapace di reagire pur in superiorità numerica. A dispetto di tanti problemi in infermeria, il tecnico Perrone alla fine recupera Pesoli e Benzaia presenti nel 3-4-3 con il tridente consueto delle ultime settimane Perna, San Domenico e De Sousa assenti Ceccarelli e lo squalificato Maccarrone. Nel Sant'Arcangelo il tecnico Zauli praticamente al completo sceglie la pizzicità di Obeng in mediana Venitucci a ridosso della coppia Margiotta-Guidone. Partita subito vibrante ed è proprio di Margiotta al quarto minuto il primo squillo ma Scotti è prontissimo a dire no. Risposta Aquilana dopo tre minuti discesa senza ostacoli di Triarico che si fa oltre 50 metri pala al piede destro potentissimo che si schianta contro la traversa. La gara è ricca di capolgimenti di fronte dopo la mezz'ora Guidone si divincola bene fa partire un tiro che esalta ancora l'esplosività di Scotti dalla parte opposta San Domenico sempre da fuori alza la mira. Ad inizio ripresa ci riprova l'undicesimo San Domenico ma il suo destro viene controllato da Nardi. L'Aquila sembra controllare i ritmi del gioco al diciottesimo però il Sant'Arcangelo passa azione di ripartenza rifinita con lucidità da Guidone che appoggia a margiotta destro a giro magistrale e gran gol nulla da fare per Scotti e della rete numero 7 per l'attaccante di proprietà della Juventus. Passano altri 60 secondi e l'Aquila incassa il raddoppio tradita da uno dei suoi giocatori di maggiore esperienza la percussione di Guidone sembra chiudersi in maniera innocua ma Pesoli spazza maldestramente e fa secco il proprio estremo difensore autogol clamoroso dell'ex difensore del Pescara. La squadra di Perrone si ritrova subito dopo in superiorità numerica Drudi, Falcia centrocampo Triarico e Ranaldi di Tivoli gli mostra il rosso diretto benché 11 contro 10 l'Aquila è però a terra e non riesce a reagire Perrone mette dentro Andrea Mancini e Milicevic il croato è pericoloso su punizione e offrendo questo pallone a perna che calcia centralmente finisce così 2 a 0 con l'Aquila agganciata dal tutto cuoio al quinto ultimo posto ora il Pisalfattori e il derby del Bonolis prima della sosta pasquale diranno se l'Aquila dovrà soffrire per centrare la salvezza diretta In casa Teramo continuano le tensioni tra il presidente Campitelli e il tecnico Vivarini Vivarini e Campitelli rapporto a fine corsa si chiede il centro il patron punzecchia sulle scelte tecniche l'allenatore che non risponde in vista della trasferta di Arezzo recupera il difensore Caidi dopo la squalifica sul messaggero Speranza Teramo stagione buttata al vento i fischi a forte e lui il primo a starci malissimo e ascoltiamo anche le parole del capitano bianco-rosso Ivan Speranza Un'altra positiva per noi per me che sono un difensore fa piacere ovviamente non prendere gol poi stiamo facendo fatica a farli un po' anche di sfortuna oggi perché comunque abbiamo preso un palo in traversa però come stiamo dicendo da un po' a questa parte comunque dobbiamo dare una mano come squadra agli attaccanti perché non solo non sono solo loro il problema quindi dobbiamo arrivare come squadra lì davanti per far gol è un'annata così ripeto abbiamo fatto un giro d'andata molto molto altalenante con alti e bassi come dicevi tu giocavamo magari bene in casa fuori facciamo più fatica ma da gennaio un po' abbiamo un pochino cercato di e penso che abbiamo fatto un po' meglio rispetto all'andata però purtroppo è un'annata così noi ci mettiamo tutto per fare ogni domenica una grande partita poi a volte ci si riesce a volte no a volte meno purtroppo questo è il calcio senti a proposito di guai fuori dal campo la Carrarese ne aveva tantissimi ieri è stata dichiarata fallita però in campo non si è visto assolutamente noi sapevamo che comunque è una squadra che cura molto tatticamente le partite quindi e si è vista è una squadra che comunque è una delle poche squadre del girone secondo me gioca a calcio quindi come dicevi tu non sembrava assolutamente che avessero questi problemi comunque molto grandi fuori riprendiamo sul centro parliamo di serie D nonostante ieri ci sia stato il turno di riposo ma è il momento per rifare il punto della situazione in vista dello sprint finale Marino cambia il Chieti per il finale di stagione Nero Verdi con la difesa a 4 in vista della partita casalinga con Lisernia il tecnico chiede conferme al gruppo possiamo fare un gran finale di stagione Lavezzano recupera gli infortunati e pensa ai punti per la salvezza Micciola di essere San Nicolò San Nicolò devi giocare 7 finali e poi in basso la rincorsa alla salvezza di Felice il neotecnico della Miternina a San Benedetto ci proviamo Giulia Nova resta l'incognita societaria il nodo della consegna dei bilanci 2014 e 2015 e il rischio di una nuova crisi per l'eccellenza la vastese frena ma resta a più 7 i biancorossi vanno sotto col Miglianico Faccini pareggia i conti il paterno non ne approfitta una punizione di De Leonardis allo scadere del primo tempo porta in vantaggio la squadra di D'Ambrosio Colavitto non si fida e predica calma avanti ancora con il basket una a due agrodolce Roseto passeggia nella città dei Sassi gli Sharks fanno un sol boccone di matera e agganciano il quarto posto finisce 85 a 105 miglior marcatore ovviamente ci viene da dire Allen con 24 punti ma in doppia cifra anche Marini 18 Borra Brian 12 Marulli 10 Moreno 11 Weaver 14 insomma tanti giocatori in doppia cifra Trullo Felice ottimo risultato in chiave playoff Brian autore di 12 punti è stata una bella vittoria ora pensiamo al prossimo impegno con Iesi vincono le prime della classe Brescia batte Trieste ed è terza svanisce il sogno Champions Cup per la Deco Gruppo Amicacci Giulianova tutto questo per il basket in carrozzina tornando a due Treviso è un rullo Proger mai in partita match da dimenticare per i teatini sul parquet della capolista 84 a 50 è il finale eloquente ed è eloquente anche la frase del coach Massimo Galli una partita di puntini puntini il coach della Proger sorride Amaro e parla di figuraccia dopo la brutta sconfitta in serie B l'amatori suona la nona Pescaressi sempre in vantaggio superano in scioltezza anche il Porto Sant'Elpidio 79 a 50 la Globo Campli firma il 19esimo sigillo stagionale e resta al quarto posto 81 a 68 la vittoria della squadra Farnese Wirortona torna a vincere facile successo casalingo contro il fanalino di Coda Martina 66 a 46 Giulianova si arrende a Sansevero bandiera bianca contro la seconda forza del campionato Letomiru paga la differenza di valori in campo la salvezza è ancora possibile BCC vasto batte l'ultima della classe prova di carattere a mola dopo i primi due quarti in sofferenza 81 a 90 il finale per il volley di A2 la Sieco vince ma che fatica l'Alessano battuto al tiebreak e gli ortonesi perdono terreno sul Potenza Picena nella corsa playoff qui vediamo la successione dei set 16-25 25-14 25-20 24-26 13-15 il parziale in 17 minuti quello del quinto set Cortina in campo con determinazione e poi per il ciclismo arriva la Tirreno Adriatico con un Nibali arrabbiato oggi partenza a Castel Raimondo e traguardo a Cepagatti con il siciliano contrariato per l'annullamento causa maltempo della tappa di montagna di ieri qui la tappa quasi in linea Castel Raimondo Cepagatti con l'attraversamento dell'Abruzzo dopo Porto d'Ascoli si entra appunto in Abruzzo a cui vediamo Alba Adriatico Giulianova Roseto Pinetto Silvi Montesilvano Cappelle Spoltore Santa Teresa Villanova e Cepagatti questo è il tracciato di questa tappa molto lunga più di 200 km appunto per questa tappa della Tirreno Adriatico andiamo a chiudere con il messaggero riprendiamo da qui Tirreno Adriatico oggi l'arrivo a Cepagatti l'organizzatore Maurizio Formichetti parte finale riservata ai velocisti ma Nibali è in agguato avanti ancora per il basket Roseto strapazza anche il Matera gara mai in discussione chiusa con un eloquente 85-105 gli Sharks di Trullo al quinto sigillo esterno consecutivo prova di forza del collettivo ieri privo di Capitan Ferraro nel secondo quarto ha fatto il break decisivo sulla Sponda Proger niente da fare nella Tana del Lupo Chietini spuntati la capolista De Longhi detta legge in casa Teatini mai in partita appena 50 punti al referto si fa sentire l'assenza di Allegretti per il calcio di eccellenza Vastese solo pari ma sempre leader un gol di Faccini al Miniani caratterizza un brutto match i Biancorossi però mantengono 7 punti di vantaggio e qui vediamo a 5 giornate della fine il più 7 in classifica della Vastese sul Paterno 65-58 è un vantaggio rassicurante per la Vastese prossimo turno con il derby a San Salvo per il Paterno trasferta ad Alba Adriatica finisce qui questo appuntamento con Mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti del Tg alle 14 19 e 23 e alle 21 l'appuntamento con il replay di Enrico Rocchi per parlare della crisi del Pescara grazie a Gioni D'Areo in regia e a voi per la cortese attenzione buona giornata per la cortese di Enrico Rocchi di Enrico Rocchi per la cortese di Enrico Rocchi per la cortese di Enrico Rocchi per la cortese di Enrico Rocchi Grazie a tutti.